Ok, c'è andata di culo con sto capo palestra Nooo Non ci crederò mai Non ci crederò mai Musica Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa Undecissima parte di Pokémon Light Platinum Randomizer Nuzlocke Nello scorso episodio siamo giunti in questa nuova città E ci siamo avventurati in una miniera dove abbiamo scovato dei fossili E il capo palestra, e difatti quest'oggi lo andremo ad affrontare Quindi signori miei, non perdiamo ulteriore tempo Vi invito come al solito a sostenere questa serie Con un bel mi piace e con un commento rispondendo alla domanda del giorno E avviamoci verso la palestra Che, signori miei, oltre ad essere di tipo terra Ma è una cosa diciamo abbastanza auspicabile E è apparso un operaio sulla porta Non lo so, scrivete nei commenti cosa ne pensate di questa feature E nulla, non si può più uscire da questa palestra Quindi bene, io spero che si possa uscire dopo aver battuto il capo palestra Comunque Cos'è sta roba? Ah ok, perfetto Giustamente le scale che fanno i rumori degli ascensori No, ma ha tutto senso Allora, respiremo un pochino Giustamente io non è che ho pensato che Fermati Non è che ho pensato forse sono randomizzati No, grande creepy story Sempre il migliore Shadow punch, no, devi stare fermo Hypnosi Hypnosi due volte No, non era un misclick Cosa ve lo fa pensare Water gun Water gun Water gun Ok, perfetto Grande John Frog che lo distrugge Comunque mi sono preso i rimedi Mi sono fatto furbo Perfetto Diamo due superpozioni Poi abbiamo 29 iperpozioni Ma quindi quella scala lì all'inizio Cioè non aveva una sua particolare utilità Cioè era lì Boh Mi ha fatto scendere Avrebbero potuto farlo in maniera normale Proviamo una forza Madonna l'ho distrutto Mi ha paralizzato Lo picchio sangue Vai tu sia Fai un flame fruer E manda giù questo cascoon Eh, forse con Feraligator Nel caso che switcho Tarzan, nel tuo momento Gigadrain Io raga veramente sto ancora aspettando Magmar Sto ancora aspettando di ottenere Voglio di andare a evolvere Randall Perché io adesso sinceramente A mandare Randall C'ho paura Perché è scarsino Finché non si evolve Non lo metto in campo Io perché c'ho paura O almeno sono riduttante A mandarlo in campo Vabbè magari ogni tanto lo manderò Però Preferisco mandarne altri No Calm mind Stagranfava Muori E comunque stiamo andando abbastanza spediti Devo ammettere qua Carta vetro di Stavo per dire Greninja Guardo troppo Troppo l'anime Eh, sì Bellissimo Dovrei Eh, non lo so Cosa devo fare Molto interessante Tutto ciò Eh, eh E quindi Eh, non lo so Eh, forza Cosa devo Cosa devo fare Raga Ma non è che Mi sono perso qualcosa In giro No Eh, c'è qualcosa Che non mi torna Ok Fermi tutti Ma Ah, ma Vaffanculo Ma ditelo Ma no Ma sapete Ma non ci sono arrivato Ma c'è Quindi vi state Quindi li ho Li ho battuti Tutti per nulla Wow Che bella La vita Ok Eccolo qua Il John Frog Forma 100% Che poi no Dobbiamo decidere Raga Lo decidete voi Se John Frog Forma 100% È Polivrat Oppure è Polited E nel caso l'altro Come lo possiamo chiamare Tipo Forma Fusione Tipo una roba La Dragon Ball Stavo sparlando Come mio solito Trash È a casa Olè Cascun Non sono i paconi Di quello di prima No Assolutamente Che cosa me lo fa pensare Mi chiedo io Water Gun No Smog Se mi avvereni Ti stupro Ti stupro Ecco ti stupro Perfetto Quale sarà mai il problema Via E No Mando Tarzan Io l'ho già detto Che Randal Non lo mando Olè Comunque Mi avete fatto notare Che sono Un po' troppo Over livellato Nel senso Tutti mi avete detto Io quando giocavo Light Platinum Non c'avevo i Pokémon Più scarsi E Raga lo so Lo so Forse ho esagerato Un po' io con l'allenamento Però cosa ci devo fare Nel frattempo Questi qua sto cercando Di buttarli giù tutti E Inoltre un ragazzo Molto furbo Mi ha consigliato Di mettere Nel box Nel box Diciamo Gli strumenti Che non utilizzo In modo tale Da fare spazio Nello zaino Difatti noterete Che ce ne sono Un po' di meno Ma tranquilli Non li ho buttati Sono tutti appunto Nel box di Creep In pratica Ok Allora Premetto che È un po' di tempo Che non gioco A Light Platinum Nel senso che Forse voi Non ve ne sarete accorti Ma penso sia Più o meno Una settimana e mezza Che non registro E Nulla Mi sono accorto Che forse dovrei passare Forte Nuovo I poche Nel frattempo Uno Starley E uno Spoink No 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 Eh forse potete usarlo Da prima crunch Ottimo Dai Randall Ehm Ditimi Oh Che bellezza Quello è un rampa Madonna però Quello è un rampardo Sì è impazzito Allora Fermi tutti Una bevuta Che È sempre meglio Della cicuta Mamma mia Che rapper Incredibile Sto creepy stories Diamo una pozione A Randall E affrontiamo La capopalestra L'unica Capopalestra Che è il capopalestra Giusto Benvenuto Alla palestra Di Gromant Mi chiamano Il principe Della sabbia Ehm Gli allenatori Che utilizzano Di poco Di tipo terra Ehm E i più forti Attacchi Fisici In battaglia Quindi sono loro Che ti chiamano così Ehm Ma basta parlare Combattiamo Sì è meglio Visto che non ho capito Il cazzo che hai detto Cioè speriamo Che non sia troppo forte Perché l'ultima volta Che ho affrontato Un capopalestra Ecco Già adesso Tipo questi livelli qua Non mi piacciono Randall Buttalo giù Ma cazzo Ehm Non ti curerai ma Come non sei curato Oh Che mafia è mai questa Oh mio dio Così da nulla Intanto lì fa crescita E faccio crunch No Crunch Dai cazzo No 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 Questo qua mi butta giù Fermi Madonna Hai visto raga Quando vi dicevo Che io di Randall Non mi fido Perché è troppo 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 Debole in questo momento Camer Ad esempio con camera Forse è proprio il caso Che metto John Frog Water Gun Non l'ho shottata No John Frog Eh Vedete Vedete Non fare Cagate Questo qua Un veniped Strozo Vai giù Perfetto Grande Randall Ultimo Un ghastly Ok C'è andata di culo Con sto capopalese No Non ci crederò mai Non ci crederò mai Che bastardo No Randall Ma no Dai Ma va a cagare C'è con Destiny Bond Mi ha ucciso Perché deve apparire Un operario Ma porca puttana Non ci Non ci voglio credere Ma che ingiustizia Era pure un po' Che non mi morivano Pokémon Su sta serie Vabbè Di riserve ne ho Fatemi sapere Chi volete Tra di loro Adesso magari Do un'occhiata Veloce Insieme a voi Raga Allora Da Alessio Poi darò Dei soprannomi Ai poco Potremmo riportare Wayne Volendo Però non so Come si evolve In sto gioco Marwak Non sarebbe Pessimo Kelly sarebbe Tanta roba Effettivamente Però sarà un casino Allenarlo E Non lo so Raga Vedrò io A voi nel caso Iniziate a consigliare Poi non è detto Che io seguo i vostri consigli Perché sapete che Poi alla fine Decido io Perché i Pokémon Li valuto un po' Però voi iniziate a consigliare A darmi delle idee E nulla È morto Randall Io l'ho detto Cioè Ho detto che era debole Ok Però non mi aspettavo Cioè Questa è stata proprio Una Una bastardata Devo ammetterlo Ok Possiamo andare al Monte Zeri Dove possiamo Attenzione attenzione Fare una cattura Io ne ho di ultra ball Ne ho cinque E ormai L'ho preso nel culo Zubat Ma abbiamo già Wayne Quindi posso riprovare E Raiorn Ok Perfetto Anche qua Non si sono randomizzati Critical Eh vabbè Debbene Basta anche Staccatura Sinceramente oggi Non avevo tanta voglia Di incazzarmi Però eh Sarò sincero Già Urku Giuda Cosa ha fatto Cos'è sta roba Cosa ha fatto Cosa sta facendo Fermi Perché mi sta uccidendo Un Nidoran Cosa sta succedendo Cos'è questa anarchia Un attimo Qui catta Ah Ok ho capito Qual era il problema Ero confuso Ok Perfetto Fermi tutti Ora muori No Cristo Dio Come posso Raga Cioè Allora Mi sta usciutando Un Nidoran Cioè Sto perdendo Contro un Nidoran Flygon Oddio E' tornato Proprio lui Seth A casa Diretto E' morto Esattamente Come è morto Il nostro E vabbè Sono ancora un attimino Cercato dalla morte Di Randall Perché sinceramente Speravo che non avvenisse Intanto Bronzer a caso Purtroppo Non è shiny Cheat E nulla No Vieni qua Vieni qua Vieni qua Allora Innanzitutto Mi devi spiegare Perché sei un pescatore E sei in una montagna Tra l'altro Questa grotta Mi sembra Proprio tanto 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 Presa da quella Charizard No cazzo Ho depositato John Frog Ma no Ma no Ho sbagliato Fermi tutti Ma cazzo Me ne sono accorto Adesso Aspetta Adesso Vado indietro A prenderlo Ok ho capito Oddio raga Gliel'ho chiamata Indirettamente John Frog No sia Ti prego Non tu Oddio Sto rischiando Tantissimo In sto episodio Madonna Ok fermi tutti No ho sbagliato Tutto Ma no Povero John Frog Raga Ma no Rip Allora Fermo Vai O il secondo Mi pare O il terzo In cui abbiamo perso Tre pokemon In una parte L'andamento Della serie Nonostante la chrome Sia light platinum Quindi non sia una chrome Del cavolo Sia una chrome Difficile L'andamento E' appunto buono Secondo me Con A livello di morti Nel senso Cioè Non è che sto dicendo Chissà cosa Però Cioè In Otto episodi Circa Sono morti Tre pokemon Che ci sta Cioè Per dire Nella crazy lock Penso che morissero Più in fretta Nel frattempo Un solar lock Pokemon sole E luna Confirmed Ok Un altro panzone Con un fluffy Pursuit Giga drain Vai giù Ti prego Ok Magmar Madonna ragazza Ho incontrato Cinque allenatori Con sti pokemon Una cosa assurda Mamma mia No dai Ti prego Vai giù Ti piace Oh Era così difficile Andar giù Body slam Che domande E Arden La fava Tu non fotti Con un john frog Giga drain Ciao E olè Perfetto E proseguiamo Tra l'altro Stiamo per raggiungere Il livello 50 Livello 50 Che si appresta A palisarsi Mamma mia Questo creepy stories Che parla di italiano Eccolo qua Wayne Che penso Alla fin fine Sia uno dei Com'è che non mi sfidi Ho trovato più fossili Che strumenti In questo gioco Ma comunque va bene Uxie Uxie sono abbastanza convinto Di non averlo ancora visto Flagello Devi stare fermissimo Perché non mi ha dato Pugli esperienze Bello warpole C'è un uxie E poi c'è un warpole E giustamente warpole Da più esperienze Di uxie Ma ha tutto senso In questo gioco Tu Stavi cercando frana Ok perfetto Purtroppo Io non la tengo Golbat E Sasha sale Al 49 Sasha che secondo me È uno dei membri Più forti del team Mentre il più scarso In questo momento Penso sia Bucefalo Ma che è comunque Molto forte Cioè Prima sarei Avrei detto Randall Sicuramente Tra l'altro Sarete molto felici Cioè Uno di voi Adesso non ricordo Chi l'ho già detto Però c'è un iscritto Che odia Randall Quindi sarà felicissimo 49 Persia Ma Mi ha dato qualcosa di strano No Raga Mi prendono per il culo Questa è proprio Quella che io definisco Una gran presa Per il culo Una gran presa Per il culo È appena morto Appena morto Questo qua È il sesto allenatore Con gli stessi pokemon E forse Non dovrei tenere Sia contro Un fralligator A parte che questo qua Fa scary face È stupido Madonna raga Non ci credo Che il gioco Mi sta facendo questo Cioè Che vita triste Avrei potuto avere Electros Lì Randall Avrebbe spaccato Questa è È stata proprio Un'infamata Del gioco Devo ammetterlo Tra l'altro Qua non posso utilizzare Scala rocce Giustamente Quindi questa zona Qua la esplorerò Quando avrò L'MT Madonna Fatemi mettere Il repellente Perché Veramente La situazione Qua sta diventando Insostenibile Eccolo qua Max Rapper Con la Thunderstone Lì Però Porca Puttana Quanto Rosico Quanto Rosico Non avete Idea Dai Stiamo ad affrontare Sti altri Karateka Questo qua Presumo sia Quello di prima Con altri Pokémon No Non è vero Scherzavo Shinx Giù Hypno Vai via Eh Sì 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 Reggi Reggi pure Come ho fatto a non ucciderlo Ok Forse sto rischiando Vaffanculo Muori Raga Smog È una mossa inutile Devo toglierla Assolutamente Ma non è che ho un MT Qua Non lo so Aspettate Earthquake Però potrei Potrei impararla qualcuno Bucefalo Ad esempio Perché ce ne ho ancora Pursuit Tu Via Olè Allora Antidoto Su Sia Iperpozione Su Sia Ma curiamo anche gli altri A sto punto Sasha E John Frog Siccome ho già perso Un Pokémon Oggi E non ho intenzione Di Aumentare Il death count In editing Ci terrei Sinceramente A Oh Fermi tutti Allora Questo è Rocco Contro la professoressa Ok Se vado in mezzo Mi sa che No Terra Ah quindi è una del team steam Perfetto Farai meglio Ad arrenderti Sei circondato da me E dalla pulizia Pokémon Ehm Sarebbe meglio per te Se ti arrendessi Ehm E ti consegnassi a noi Per l'interrogatorio L'interrogazione Ragazzi Si vede che è iniziata la scuola Nemmeno per sogno Steven Devrai prima sconfiggermi Sinex usa Earthquake Metacross Cos No Steven Cosa Com'è possibile Di tipo metallo Intanto è stata arrestata male Perfetto C'è andata bene E quindi un membro del team steam Ha fottuto Ritorno a Metacross Ciao Ci sono anch'io Ehm Che sorpresa Creepy Finalmente si è riuscito Siamo riusciti a catturare Uno dei membri del team steam Possiamo interrogarlo E scoprire i loro piani E lavorare tutti insieme Per fermare tutto ciò Prima che avvenga Ehm Ti farò sapere Questo è un grande risultato Per la società Pokémon Per la Società Sì Per la Sì Sì Società Pokémon HM03 Questo è Surf E non è ancora volo Tra l'altro Quindi Anche volendo tornare indietro A prendere la pietra tuono Eh Non potevamo Però l'abbiamo trovato lì Quindi Comunque Surf Ovviamente ne insegno John Frog Tolgo Watergun Che è una mossa vergognosa Ok Ehm Oddio ma questa qua È Silia Giusto? No Sono semplici Semplici No Semplici Pokémon Ranger Perfetto Ok Pensavo fosse il Team Steam Raga Double Slap No Devi stare fermo Ok Ora è morto No Per me è ancora in circolazione John Frog Quanto ho rischiato qua tenendoti Quanto ho rischiato qua tenendoti Non avrei dovuto farlo Sono un irresponsabile assurdo Tu? Vieni qua Ok Perfetto Sì lo so che devo tirare le Ultra Ball Per catturare i Pokémon C'è giura? Uh Hit Monchan Ice Punch No Hit Monchan No Muori Che cosa fai? Chatot No Questo qua era bellissimo Tipo In quarta generazione Che potevi fargli fare il verso personalizzato Ovviamente la gente lo utilizzava per fargli dire frasi Diciamo Bellissime Tipo Tipo John Frog sta morendo Fermi tutti Sasha Ok Dio mio Stanno diventando più forti del previsto Cioè gli ho appena insegnato surf Mannaggia Eeeh Considerando che il Dropombo potrebbe fallire No non glielo insegno Preferisco surf che è efficace 100% Eh? Il tuo Charmendar non esiste Perché non avevi Charmendar Però va bene lo stesso Dai Noi ti lascio nella tua convinzione E proseguo Siamo a 18 minuti in frattempo Questo monte qua Speravo fosse più corto Lui sta cercando di catturare uno Zubat Cioè le emozioni della vita proprio Ah perfetto Siamo usciti Il percorso 412 Ah e devo utilizzare il surf Io voglio vedere l'animazione Secondo me c'è l'Apros Sharpido No vabbè No vabbè C'è tanta roba Fatemi catturare il Pokémon acquatico Come cattura del percorso Anche se in realtà ho già John Frog Quindi non è vero Catturiamo Quello dell'erba Questa zona qua Sembra tipo una di quelle classiche zone paludose Che ci sono nei giochi Pokémon Tipo quella sotto Pratopoli Madonna Bidoff Che cancro Muori E Arken Eh però con Trash Minchia gli ho fatto malissimo Gli ho fatto malissimo No eeeh Finchè faccio Earthquake Su un pacone di tipo volante Probabilmente Sarò il miglior Pokémon Master Del Playsto Cene Ok Fermi tutti Ehm Come Dammi Lux Ti prego Sei randomizzata qua bestemmio Sì Sì Che culo Raga penso di aver trovato No Mi scliccato Proseguiamo Successo nulla Vabbè Miss click Anche Jotick Non sarebbe stato male Sarebbe stato un ritorno Vabbè raga Vabbè Non avrò il Pokémon di tipo elettro Qual è il problema Poi se ne troveranno Dimmi Poi A 100.000 Sì certo Io lo lascio sicuramente Guarda tanto Tanto cos'ho da perderci Se non l'esistenza Olè Perfetto È salito al 50 o sbaglio? Sì E allora mettiamo davanti Tarzan Vorrei portarli tutti al 50 Prima della fine di questa parte Ci starebbe E soprattutto raggiungere la prossima City Qua si può utilizzare Edbat Ma No non ce l'ha Chi è che aveva Edbat? Dei miei nessuno Ottimo 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 Forse Randal addirittura Aveva Edbat E vabbè Ciao fratello Ciao fratello Senza cipolla Vieni guarda Apro famiglia Spacco bottiglia Non so perché sto parlando così Suicun Suicun Ma la cicatrain dovrebbe volire Olè Perfetto E Il cancro Il cancro esistenziale Questo fa pazienza però Allora Fermi Cosa posso inventarmi? Mando John Frog E ti addormento Ok perfetto Ho ragionato Ho ragionato E l'abbiamo battuto Perfetto Uh Madonna raga Tipo quando ho visto pazienza Per un attimo Mi si è gelato il sangue Nelle vene O le vene nel sangue Cheat E Nulla Invece ci è andata bene Perché Creepy Storio Sapete È uno molto sveglio Dustax Ah dovrei mettere davanti Neanche a dirlo Grazie mille Sascha Dovrei mettere davanti Appunto Ciao Bentornato Tra di noi Caro spider Ora sei morto Waterpulse E giù anche Flareon Perfetto Battuto anche questo Pigliamosche Dio mio raga Ci sono tanti allenatori Qua in giro comunque Tu Non servi Non sei inutile Quando piove Quando piove Quando piove Ok Quando piove Tutti si Si arrabbiano E Un po' di ragione Ce l'hai Sinceramente Comunque ragazzi Stavo pensando Sinceramente Che Che devo mettere Sascha Ma soprattutto Che se abbiamo trovato Per terra Una pietra Tuono Verosimilmente In giro per la regione Si troverà per terra Anche una pietra idrica E quindi Non è detto Che io debba Tenere per sempre Poliwhirl Ma potrei riuscire Ad evolver Cioè Poliwhirl Scusatemi John Frog Forma 50% Ma potrei anche Evolverlo Volendo A Polivrat Nel caso Dovessi riuscirci Appunto Cioè nel caso Dovessi trovarla Più che altro Sta Dannata pietra Tu Oh Gesù Stiamo arrivando A Central City Che sarà L'Austropoli Di turno Quindi Ok Che bello Sinceramente Sono quelle città Che non mi piacciono Già in questo gioco Le città Sono colossali Ci capisco poco Figuriamoci Quella grande Davvero Ole Tu dici Quello che dice Quello di prima Perfetto Leopard Ice beam No Fake out Un cazzo Ecco ci siamo capiti Swinab Water pass Tra l'altro Water pass È potenziato Dalla pioggia Quindi forse Dovrei utilizzarlo Un po' di più E vabbè Se c'hai la mamma Puttana Io cosa ci devo fare Caro red Se c'hai la mamma Puttana E vabbè Eh vabbè Sasha Water pass In teoria è potenziato Perfetto Giù Buy net Ok Ice beam Ziben a casa Ole Credili Ice beam Non sono neanche convinto Di mandarlo giù Sinceramente Però invece Si E lo battiamo Perfetto Madonna raga Le battaglie Con i rivali Sono clamorosamente Quelle più facili E non capisco Perché Qua me l'ho perso Uno stru TM18 Piaggia danza Che fenomeno Che fenomeno Che fenomeno Ma adesso Mi ricordo Certe cose Io Gesù Cristo Fatto youtuber Mi sento No torna qua Ok Pure la bambina Vuole partecipare Eh lo so Che Entrambi i tipi Se magari Riuscissi a ottenere La pietra Magari Potrei Averlo E poi sarebbe Tutto bello Figo Gu Ok Intanto Abbiamo mandato giù La rissa E penso che Stiamo per arrivare Alla città Nuova Tu stai cercando Un amo buono Stai buono Quindi Ora potete Uccidermi Stuprarmi Denunciarmi Qualsiasi cosa Vogliate fare Giù Dai ho visto Una pokeball Prego nella pietra Idrica Body Ehm No perché Se non sbaglio È un attacco fisico Pessimo Cazzo è il magnete Ah aspetta Calamita sarà Sì Calamita Anche questa qua Potevamo darla a Randall Che bello Questo gioco Che mi piglia per il culo Tra l'altro qua c'erano Era pieno di pokemon Eletro Stracolmo Cioè più che altro Ho visto solo loro E nulla Randall doveva morirmi Per un destino Obbligato di merda All'inizio dell'episodio Vabbè La vita fa cagare Cosa ci dobbiamo fare Noi Waterpass E Giussascia No magari Giù Shelgon E ok Allora Metterei davanti No Sia no Che c'è l'acqua E Flamethrower Non può far nulla Metterei Metterei davanti Tarzan Invece E nel frattempo Sto episodio Sta durando Più di quanto io voglia Perché dove cazzo È questa Fottuta città Ok Vedo una panchina Vedo civiltà Oddio Galvantula Ti vedo un po' strano Forse sei Lo sprite Non lo so Giusto Gigadrain è finito Dall'inizio dell'episodio Tipo Sword Dance Questo qua inizia a farmi paura Quindi deve morire Ok Dai si Staremo arrivando Cazzo Non è che c'è una panchina Con dei lampioni Così a caso Quanti allenatori Là sopra ho visto Un personaggio strano Sarà sicuramente O gold O qualche fottuto No Detect Mica tanto Si 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 Zekrom Eh Perché no Zekrom Perché no Earthquake E l'ho quasi distrutto Però Thunderbolt Non mi fa male Rock smash Qua ho clamorosamente Miscliccato E Bucefolo Lo butta giù Perfetto No Guardalo Che è già lì per affare Perché questo episodio Deve durare 400 eoni Cazzo Eh vabbè Cosa ci possiamo fare Noi del resto Allora Tarzan indietro Mettiamo davanti Bucefolo Col Fortunuovo E via Comunque questa tattica Del Fortunuovo Laga sta dando i suoi frutti Perché i Pokémon Rimangono sempre allenati Ciao Ehi Creepy Ehi Creepy è passato Tanto tempo Dalla nostra Ultima battaglia Sticcoli no Sì Sì God Stronzo Non ci penso nemmeno Ad affrontarti All'inizio di Sì Waterstone Raga Oddio Perfetto Ok L'episodio è iniziato di merda Ma è finito benissimo Fermi tutti Cos'è tutta sta storia Allora Facciamoci questa Questa roba qua Che penso sia il team steam Team steam Questa è l'ultima volta Che vi facciamo questa offerta Arrendetevi adesso E nessun Niente vi succederà Abbiamo già catturato terra E E sarà liberata Molto presto As soon as we have No Set free Penso sia un Phrasal Che non conosco Non appena avremo Smantellato la vostra operazione Succederà qualcosa Non appena avremo smantellato La vostra operazione Ufficiale Sono impressionato Dal suo coraggio Ma non ho tempo Per giocare con te In questo momento Devo andarmene velocemente Addio Arrivederci Amici Devo salvare il mondo What the fuck Devo salvare il mondo Ok La polizia che Ok Siamo arrivati alla città Raga Central City Che in realtà Non è così grande Come volevano farmela passare In realtà è una cosa gigantesca Vabbè Non è troppo grande C'è una palestra Ma io sinceramente Raga Ora che ho surf Concludiamo l'episodio così Facciamo la cattura A Central City Mi faccio furbo Tra l'altro Wow che cosa bella Questo è il Bayon Raga Facciamo la cattura Qua Se si catturano poco Ma A sto punto direi di no Assolutamente no E La città Me lo esploro Fuori parte Ho compenetrato Un lampione Sono abbastanza Sicuro di ciò Dove sono entrato Non lo so E nulla Allora qua cosa c'è Intanto Esploro solo superficialmente Questa città Ok perfetto Questa qua è la classica centrale E nulla Nel prossimo episodio Vi farò vedere La La città Cosa c'è nella città Ma prima di concludere Appunto L'episodio di oggi Hashtag 100% Per lui L'eroe Indiscusso John Frog Vuole imparare cosa? Leggimenta No grazie Fa cagare Signori miei Avremo perso Andare Dovete consigliarmi Un pokemon Per sostituirlo Ma abbiamo trovato L'eroe Al 100% E ora si Che si va a comandare Comunque Spero che questo episodio Vi sia piaciuto Se così vi invito Come al solito A lasciare un bel mi piace A commentare E a iscrivervi al canale Se non avete ancora fatto Consigliatemi nuove I pokemon Dovete nel team Rispondete A dove andare Il giorno Che sarà Come al solito Questa è la sidebar E passate i social Che invece Saranno in descrizione E a 12 giorni Ci vi chiamo In un prossimo Video